perfetto ma sono 5 minuti, 5 minuti ce la facciamo vabbè intanto guarda cazziiii no raga a sinistra c'è talmente tanta gente che veramente qui mi massacrano vai madriarca tu vai porco dio non mi fanno mica scie si arriva in player pure no crie no vabbè ecco una cumbra attenzione ultra 1 la cassaforte ha allertato le forze nemiche prepararsi al capo a ultra 1 la radioattività si intensifica raggiungete subito un punto di estrazione nooo dai no questa partita ma stanno a crema metti in basso metti in basso capra e restami basta all'asta eh eh no porco d'inci raga è impossibile no ora come ora per come si è messa veramente ehi son morto sono morto definitivamente io vabbè sono morto affogato non l'ho capito questo punto mi sembra quello l'unico motivo ma sono restabile ah si c'era gente che saltava si sai che forse son morto affogato veramente oh cazzo prelevate il contenuto qui siamo circondati mi hanno beccato e continuano a gallare mannaggia cristo non ti lascio nooo perchè apri la porta è entrato uno provo con una carica perforante mai mai granata stordente partita Raga, non vorrei dire, non mi porterò sette Eh, lo so Infatti adesso veniamo da te, ma Poi Ci sono appena arrivati i nemici No L'ho colpito Chris, abbiamo un grosso problema Quindi, Chris, cosa? No 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 Eh ma non ce la facciamo nemmeno all'altra parte No no, qua non la possiamo usare più niente raga Ah va va che dritto, corri corri che dritto Ma io c'ho la maschera d'oro, ce la faccio Ma si è venuta la gomma Oltra 1, il chico viene verso di voi, prepararsi al contatto Andate Destro e panni nella strada no! cazzo! ce la facevamo, ce la facevamo pilu pilu no che palle che strada di merda finito siiii guarda qua talmente tanta gente capra non è possibile ce l'avremmo fatta raga era meglio a sinistra se rimanevamo sul coso ce la facevamo porco dio e la madonna e tutti i santi che palle un errore di distrazione alla guida oltra 1 rilevato aumento di attività nell'area occhi aperti è colpa tua matriarca mi hai detto la strada è sbagliata ma che cazzo so dire fa colpa la mia si mi dovevi dire andiamo a sinistra la capra la capra vuole vivere a tutti i costi si eh ma mi sa che la capra con una macchina con una macchina ce la faceva con una macchina a pd no la corso della vita green niente è stato bello conoscerti e niente addio apra si le mancherano tanto te lo dirà il gioco tra pochissimo addio tipo ora addio attenzione ultra 1 radiazione in arrivo stiamo raggiungendo il punto di estrazione finale c'è un'altra c'è un'altra c'è un'altra prendi prendi la macchina prendi la macchina prendi la macchina vedo la macchina e guarda adesso la corsa della vita cavallino run for his life proteggetela c'è un'altra c'è un'altra c'è un'altra c'è un'altra c'è un'altra c'è un'altra pazienza la chiamate qualcun'altra no don't shoot don't shoot ero 4 il punto d'estrazione cazenna 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 ma c'è nessuno no eh chi l'ha chiamata è venuto da solo ah perché proprio era il punto di fuga straordinario stai giù porco dio la propria non potremmo restare oh ecco te sei davvero vissuto sei davvero vissuto ahahahahah anche il lagrimo ce l'ha fatta ce l'ha fatta no ovviamente 7 daniche c'è Anikamori ma c'è un geno piccolo no dovrebbe essere medio perché io ho preso uno medio e me l'ha messo nello zaino perché non l'hai seguito l'ho preso l'ho preso e me l'ha messo nello zaino proprio ah quindi devo dire che ce l'ho avuta no? ah lo zaino te l'ha messo nello zaino eh una riosca eh vabbè va va buono va che ore si sono fatte? me l'ha messo no no no